Presentato a termo il progetto di Beard Control fatto tramite l'alimentazione antifecondativa dei piccioni, operazione che verrà attuata anche per rispondere alla problematica che si è riscontrata sul territorio, soprattutto a seguito della nidificazione sempre più copiosa di tali volati a seguito dell'abbandono degli edifici a causa del sisma. Abbiamo cercato di individuare una soluzione che potesse essere risolutiva del problema, ma soprattutto a lungo termine. Questa è una scelta innovativa dell'amministrazione perché presenterà un particolare becchime sul territorio, ci sarà a disposizione un particolare becchime dispensato tra l'altro con dei contenitori appositi, proprio al fine di garantire un mangime antifecondativo per questi piccioni. Non è nocivo per l'animale, ma chiaramente limita la nascita dei piccioni stessi. Secondo lei gli ambientalisti come prenderanno l'iniziativa? Ma questo, ripeto, non è nocivo per l'animale e sicuramente non è nocivo per gli animali d'affezione. Abbiamo fatto tutta una serie di valutazioni. Le associazioni animaliste e ambientaliste dovrebbero conoscere questo tipo di becchime, che, ripeto, è un mangime non avvelenato, ma semplicemente che contiene la nascita degli stessi. È comunque una forma di nutrimento per loro. Non dovrebbero esserci problemi, per questo che tecnicamente abbiamo cercato di valutare la soluzione migliore per la città di Teramo. A presentare tale modello assolutamente innovativo per il contenimento della proliferazione dei piccioni erano presenti, oltre gli amministratori cittadini, un veterinario e l'azienda che ha l'appalto per la disinfestazione e derattizzazione della città di Teramo. È un farmaco, farmaco veterinario, si presenta come un chicco di mais. viene somministrato ai colombi, in zone precise, dove loro impareranno poi ad andare ad assumerlo tutte le mattine di buon'ora, quindi verso l'alba viene somministrato e lo assumono in piccole quantità e va a incidere sulla gametogenesi, in buona sostanza sulla produzione dell'uovo nelle femmine e dello spermatozoo nei maschi. Dopo dieci giorni di quattramento continuo perdono la facoltà appunto di sviluppare delle uova fertili per cui non nasceranno più i piccoli e di conseguenza la popolazione tenderà a diminuire per lo meno nel suo aumento naturale e poi successivamente per alcune cause naturali tenderà a ridursi nei numeri totali.